Passione, impegno, dedizione, accomunano gli appassionati della due ruote più amata degli italiani. Sono i componenti del Vespa Club di Caltanissetta che domenica scorsa si sono riuniti nella sede di Viale Trieste per rinnovare le cariche del direttivo. Riconfermato a capo dell'associazione da quasi 20 anni impegnata a diffondere i valori dello sport e della sana competizione, Giuseppe Emidione, il presidente che ha segnato e continua a segnare la storia del Vespa Club. Avvicinare i giovani alla gincana, l'educazione stradale e civica saranno i prossimi obiettivi che Giuseppe Emidione porterà avanti con tante novità previste per il nuovo anno. Innanzitutto devo ringraziare coloro i quali mi hanno dato e quindi confermato la fiducia negli ultimi anni. Questa elezione naturalmente sarà valida dal 2016 al 2018. Gli obiettivi sono tanti che ci prefiggiamo a livello locale, regionale, nazionale e posso dire anche internazionale. Inizieremo con il brindisi che faremo il primo di gennaio, quindi ormai è una tradizione, quindi ogni inizio di anno ci riuniremo qui alla sede, poi faremo un giro per la città, anche se dovesse nevicare, quindi ormai è un giorno al quale non possiamo fare a meno. Dopo ci dedicheremo soprattutto alle gingane, la nostra specialità, quindi la specialità del Vespa Club è Caltanissetta. Naturalmente in programma c'è anche un raduno nazionale, per noi è il quattordicesimo che si fa a Caltanissetta, quindi ormai è una tradizione, una storia. Dopodiché quest'anno il Vespa Club Caltanissetta sarà presente al raduno internazionale che si farà in Francia. Tra le novità, come quello dell'ingresso di Chiaracossa nel direttivo dei Vespisti-Nisseni, anche la riconferma dei vicepresidenti di Dio Andaloro e Michele Provenzano, mentre Luciano Ventura, Loris Milia, Giuseppe Gino Ventura, Carmelo Cosentino, Giuseppe Scuto, Calogero Fallea sono gli altri componenti del direttivo. Mi dedico a tutte le manifestazioni alle gingane, non quanto all'organizzazione e ai percorsi, al disegno dei percorsi e tutto, nonché pure quest'anno il Vespa Club ha partecipato al raduno regionale, al gingana regionale, un campionato che sono state segare per tutta la Sicilia. Cerchiamo quest'anno ancora di mettere in atto questo e portare dei ragazzi giovani a farli allenare e a partecipare. Io ringrazio il Presidente per avermi nominato con la seconda carica di vicepresidente e continuerò comunque a fare quello che ho sempre fatto, l'attività burocratica del nostro club, intendesi quindi le autorizzazioni, le richieste, le richieste di finanziamenti e cose varie relative alle nostre attività. e quindi diciamo che è il supporto logistico e amministrativo di questo Vespa Club.